Un nuovo regolamento di contabilità aggiornato alle direttive europee governative. E questo l'ultimo atto, a firma dell'assessore al bilancio del Comune di Trinitapoli, Emanuele Lo Sappio, è approvato dal Consiglio Comunale. In pratica si tratta di regole fondamentali che mettono il Comune Casalino al passo con lo scenario voluto dal Governo centrale, secondo il principio di armonizzazione dei sistemi finanziari più generali. Una tappa storica a suo modo, considerato che il vecchio regolamento era datato 22 dicembre del 97. Le normative per gli enti pubblici sono profondamente più volte cambiate in questi 20 anni, ha affermato Lo Sappio. Occorreva al più presto adattare la bozza originale proposta dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale alle varie opzioni funzionali delle nostre esigenze. La mia posizione è stata quella di aprire a tutti i consiglieri sulla possibilità di poterlo modificare attraverso suggerimenti e confronti, anche a posizioni diverse, nel rispetto naturalmente di ruoli e delle proposte fatte. Un regolamento che ora servirà per gestire in maniera più trasparente il bilancio e agevolerà l'attività dell'ufficio finanziario, sarà uno strumento utile per tutti i consiglieri per conoscere le regole basilari sulla contabilità pubblica. Abbiamo di fatto stravolto quello che era l'articolo a riguardo, spiega il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Antonietta De Lillo, condividendo l'idea di avere regole certe e responsabilità circoscritte. Nessuno vuole e ne vorrà più nascondere la polvere sotto il tappeto, mettere in difficoltà chi ci sarà in futuro ad amministrare.